Ieri ad Aurigo in Vallimpero una domenica sera l'insegna dello sport e della solidarietà in occasione della finale del torneo di calcio intitolata alla memoria di Mario Codevilla, calciatore aurighese che militò tra le fila di Inter, Piacenza, Mantua e Sanremese. Ad aggiudicarsi l'ambita Coppa al termine della gara conclusiva della competizione calcistica organizzata dall'associazione Trey Campanin e dal comune di Aurigo, la squadra della Turchia, capitanata dal calciatore numero 7 Emre, che ha battuto per 6 a 2 in finale i padroni di casa dell'aurighese, guidati dal capitano Alex Alberti. La squadra ospita ha messo al sicuro il risultato nei primi 10 minuti del primo tempo, con una tripletta in ripida successione del calciatore numero 9 turco Ertuğ Durmaz. I ragazzi della Turchia hanno dominato l'intero incontro, andando poi ancora a segno nella seconda frazione di gioco, partita corretta giocata nel rispetto reciproco. La finale per il terzo e quarto posto ha registrato la vittoria della squadra del Chiusa Vecchia, con il risultato di 7 a 6 nei confronti del Cesio dopo i tempi supplementari. Numeroso il pubblico presente sugli spalti, così come si è verificato nello scorso mese di luglio, in occasione delle partite di qualificazione. Al termine della finalissima, premiazioni e rinfresco per tutti. Gli riconoscimenti che hanno riguardato i singoli calciatori sono stati Miglior portiere Nicola Sibilla dell'aurighese, giocatore più corretto Ertuğ Durmaz della Turchia, e capo pannoniere Edoardo Zeviani dell'aurighese. I calciatori sono stati premiati dal sindaco di Aurigo, Luigino Dell'Erbe, e dal vice sindaco Piercarlo Gandolfo, da Cesare Codevilla, promotore del torneo unitamente alla moglie Cinzia Bruzzone. Gli stessi hanno anche fornito i premi. Presenti i componenti dell'associazione tra i campanì con il presidente Roberto Ferrari. I ragazzi dell'associazione si sono occupati anche dell'organizzazione logistica dell'evento. L'incasso dell'intero torneo è stato devoluto in beneficenza all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova, unitamente alle quote di iscrizione delle otto squadre partecipanti. Viva soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori del torneo, dai promotori dell'iniziativa Cesare Codevilla, dalla moglie Cinzia e dall'amministrazione comunale aurighese per l'obiettivo finale raggiunto, olsia il sostanzioso contributo in denaro raccolto e destinato alla ricerca pediatrica presso il nosocomio infantile del capoluogo genovese. In questo contesto il risultato conseguito sul campo non era di fondamentale importanza, ma al fine era molto più nobile ed è stato conseguito con successo grazie al contributo di tutti.